Oggi c'era la Cusini Si no, si no ne vediamo Ili ha il Il ha il gelo? Si Si Provjera il gelo Dopo 250 km Stigli smo in lago Evo il nostro Camper Dobbiamo se stenderemo Buongiorno 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 La camera è vera Vanno è meno 10 La combina è meno 6 Grazie a tutti Grazie a tutti Trener Grazie a tutti Quagà Corriamo Starte Vedi Si Sici Ovo è C'è C'è 15 Cubic Start Noi è solo il c'è un pozzo, vediamo questo questo è tutto il listo questo è tutto il listo guarda cosa si vede guarda stra 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 E' vero! Pagli ci sono le vodere, quindi dovremmo accettare. Non c'è un pozzo. Non c'è un pozzo. Non c'è un pozzo. Non c'è un pozzo. C'è un pozzo. Non c'è un pozzo. Non c'è un pozzo. E' un pozzo. Certo. E' un pozzo. C'è un pozzo. C'è un pozzo. C'è un pozzo. C'è un pozzo. Evo, guardate. Filippo ha rilato un pozzo per toccare la vodere. C'è un pozzo. 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 Non ci sono i nostri più piccoli. C'è un pozzo. C'è? C'è un pozzo. C'è un pozzo. C'è un pozzo. C'è un pozzo. il nostro lavoro è stato molto più difficile ma siamo sempre più difficili quindi prima sui testi e poi testiamo la scuola qui è il start e passiamo per il corso di risultato di risultato e si stiamo 350 metri Sì ovo è molto divertente questo non c'è un campero quello che c'è il nostro campero questo non è visto il video non c'è il 46 marcelloni non lo vediamo non lo vediamo Buongiorno è il giorno ci sono già preparati per il giorno è il giorno è il giorno è arrivato ora è solo tutto a te ora è tutto è tutto abbiamo un test con tutti i team ci sono solo però le sportive ora è tutto Sì, c'è la Pritoria. . 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 Sì! 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 questo è lì l'estrata del primo di Hrvato in Machuolondi 70 km il nostro club è il primo bravo maestro Re bravo maestro Re il Hrvato si è l'ho Dento Bologucia ancora un olimpiador bravo Dento bravo maestro Re bravo bravo Deccchi bravo Deccchi svaka čas svaka čas bravo maestro Re bravo maestro Re bravo 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 maestro gravo bravo in 位置 quattaccia 20 km, ragazzi, non ci sono vivi è bello pesca è vero in 0 minuti 48 minuti solo proteine? niente, solo paura non c'è 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 è passato a mangiare un chilometri per kilometer e non è venuto non c'è ma non c'è non c'è un psichiatriano di 20 km la mia città è non resta, si solo psuja, schtapove, stazos, skije, plottice, chilometri. E come ti ha la città? La seconda 20, con lui. La città è stata riuscita, quando mi è venuto a stare a Stessa, a Denis, a Dominic, e poi questa città è la città di Dominic. non è stato un po' trazione fino alla fine e mi è venuto e mi è venuto da qui è il giuro e mi è venuto e che non è venuto il città non è venuto non è stato non è stato è stato un gioco abbiamo un gioco 40-50 km ogni 2 km e poi abbiamo avuto questo, e abbiamo avuto questo, e la tua crisi è stata in grado, e poi ciò che mi ha avuto in grado, in grado, in grado, in grado, 50 km, e poi ciò che sono più sposti, e in grado, e in grado, e in grado, e in grado, non è in grado, e in grado, e in grado, Non si muovere, non si muovere, il sve sporo e il sve manje, ma siamo riusciti. La crisi sono arrivati a 18, 19, 20 km, quando siamo con me e Damir, abbiamo avuto problemi da l'inizio, dove siamo più di 4.000 persone, e questo è una grande cosa che hai tutto … 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 non si è proprio da l'unica e se no si è proprio da l'inforza e se deve adorare in questo modo non ne vieno non ne vieno la risposta che i suoi dicciati non è una risposta ma siamo arrivati c'è una cosa non siamo arrivati a non siamo arrivati ma siamo arrivati 9 dopo 9 29, 28... Quindi, da l'inizio è stato fatto, come è il trener D'Anco detto, siamo pensati, avevamo il progetto di essere stati di tutti i 17 km di tracciare e proviamo a riuscire, ma dopo è stato potuto fare. Ma è rimasto così, non è così così. L'inocchio è stato fatto e lo so... Dominick, Dennis e io siamo riuscire a riuscire 10 km. e poi in questo giù... non potete capire come sono grandi giù. Ci sono davanti di Brda, davanti di voi 100, 200, 300 persone, ma siamo gli unici che siamo pritici. Lo garantirò, non solo io, ma anche io. Ma che ci sono 4 o 5? Ma che ci sono 3, 4 o 5 persone che sono pritici di 70 km. Sì, tutti sono, quando è stato 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 lì, sono stato lì, sono stato legato e li vozi da lì. Non siamo giurati lì, 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 la stazione, per uno schimbare, senza un pozzo, senza un pozzo. È stato difficile, penso che non ti sia finito, è stata una guerra con l'escrizione, ma è stata una guerra con il cuore, ma è stato solo il mio nome, ho detto, io sono 8 mesi, ho lavorato da questo giorno, e ho dovuto dare tutto a me. Mi chiamo prima di ringrazio per i raggiungere donne, raggiungere donne e donne, per i raggiungere donne. Per ora, per quanto è la grande attrazione. Quando i raggiungeremo il cilio, non è che direi 90% di raggiungeremo il cilio, Siamo arrivati da scuola, con la sua scuola, con la sua scuola. Sve su imali riusci e vori. Quindi, da poco, quindi, di 7500, sicuramente 6.000, è stato da prato. È una parola con la sua, con la sua, con la sua. Cioè, ho potuto essere e piti, perché è stato fatto il tempo, ma non siamo arrivati nel ruo, ho fatto il giorno. Non sono riusciti, non sono riusciti, ma sono riusciti. sono stati e poi il primo è venuto da me e ho visto qui sotto il brado e dice ma che è quello? o che vuoi? non guarda che sembra di essere io riempio di persone ecco ecco, ecco, questo è tutto in cui sa tu in segno pensa che sei un po' 600 persone in segno di loro allora ho fatto il tuo applicazione quando sono qui passate quando sono fatti di bombi